Comunque io per tutta l'estate sono stato in contatto con il mister, avendo già avuto a Caserta gli ultimi sei mesi dello scorso anno. No, diciamo di no, perché comunque ha sempre le stesse idee, che comunque si sposano con i giocatori che io sono. Quindi non ho fatto alcuna difficoltà ad apprendere i concetti, le idee che ha, perché comunque l'ho già avuto, so che cosa vuole, so che cosa chiede. Quindi penso che comunque anche il mio inserimento non abbia avuto tante difficoltà, c'è sotto l'aspetto del gioco, perché comunque è un sistema di gioco con idee e concetti che già conoscevo. Sono arrivato qua da poco, sì, però mi sento già parte integrante di questo gruppo, che è formato da uomini veri, da giocatori forti. Mi hanno tutti facilitato, cioè comunque il mio ingresso in squadra, sono stati tutti eccezionali e di questo vi ringrazio. Secondo me siamo una squadra che ha tanti valori, ha tanti valori, penso che comunque anche Domenica con i Siena l'abbia dimostrato, perché secondo me abbiamo fatto una partita coraggiosa dove ci è mancato il gol e basta, perché comunque sotto il punto di vista del gioco siamo stati molto superiori rispetto a loro, che comunque vivevano di folate, di giocate individuali. Secondo me non dobbiamo avere limiti, perché comunque con il lavoro e con la dedizione e con il sacrificio si possono ottenere ottime cose e che soprattutto c'è dei grandi risultati. Quindi io sono molto ambizioso, credo nel lavoro, credo anche nella fatica e quindi penso che comunque questa squadra si possa togliere tante soddisfazioni. Simone, tu sei uno di quei giocatori con un curriculum alle spalle il più importante, sei cresciuto nel Torino, se non ricordo male, poi hai fatto la Serie B con il Brescia e poi Serie C. Pensi di aver raccolto fino a questo momento quello che avresti meritato oppure magari per essere ancora a livelli più alti ti è mancato qualcosa in determinati momenti della carriera? Bella domanda, ma come posso rispondere? Io mi sono sempre detto che c'è nella vita, come nel calcio, in questo lavoro che è importante non avere rimpianti, perché alla fine noi viviamo di questo e tutta la mia vita il calcio. Sì, è logico, avendo avuto un percorso di giovanile importante, che comunque sono subito andato a fare la Serie B dopo la primavera, pensavo di poterci rimanere. Poi magari ho fatto delle scelte sbagliate che non mi sono state aiutate, perché io quando ero sceso dalla Serie B sono comunque andato in una piazza come Alessandra che a gennaio aveva 12 punti di vantaggio. Quindi lì purtroppo avevamo perso un campionato. Sono uno che non crede molto nella fortuna, però diciamo che alcune scelte potessi tornare indietro sicuramente non farei la scelta di scendere di categoria.